aldo in arcadia un giorno d'estate la principessa andò da aldo giornata splendida per un giretto ottima idea ci sto dove si va oh fai tu aldo facciamo un viaggio a sorpresa che ne dici eh aldo si tuffò nella via lattea fantastico ma vorrei aver portato l'ombrello guardala è un enorme pezzo di formaggio dai aldo passiamo attraverso uno dei suoi buchi giganti ecco la luna anche quella è fatta di formaggio andiamo a vedere la ci vive un mio amico principessa ti presento l'uomo della luna molto piacere la prego si fermi per il tè aiuto guarda quanti topi stanno divorando tutta la casa eh sì ora che il formaggio sulla luna è finito mangiano qualsiasi cosa attento alla coda aspirapolvere che te la mangiano guarda gli aspirati spero che non gli faccia male se lo meritano così non gli daranno più fastidio aldo esclamò la principessa aspirapolvere mi ha dato un'ottima idea ti ricordi quell'asteroide di formaggio trasferiamo i topi lì sopra cominciò la caccia ai topi presto attento aldo dietro di te ecco fatto aspettatemi qui voi due facciamo in un attimo spero che i topi non soffrano il mal d'aria aiuto eccovi qua topini andate e buon appetito aspira polvere sei finito di farti portare in trionfo andiamo a farmene anche noi ecco qua amici servitevi evviva non è straordinario aldo e domani cosa faremo buon appetito